boh ragazzi sono perplesso sono veramente perplesso buonasera a tutti ragazzi benvenuti e bentornati con il canale youtube io sono C299 e oggi ragazzi siamo qui tornati in un nuovo video il nuovo post partita questa volta non della nostra amata Juventus perché come sapete c'è la presa delle nazionali ma appunto per la nazionale italiana prima partita di Luciano Spalletti come commissario tecnico degli azzurri finisce male perché pareggio 1 a 1 contro la Macedonia del nord ragazzi contro la Macedonia del nord tutto rispetto per i macedoni per la Macedonia del nord però parliamoci chiaramente l'Italia campione d'Europa in carica non può permettersi di andare in Macedonia e pareggiare 1 a 1 con la Macedonia del nord però ragazzi prima di iniziare con questo post partita mi raccomando solita premessa sostenete il canale come potete fare lasciare un bel like ragazzi arriviamo ai 15 mi piace sotto questo video condividete questo video più in generale tutto il mio canale con i vostri amici iscrivetevi che dobbiamo arrivare ai 200 iscritti il prima possibile cosa fondamentale e in più se volete attivate la campagna delle notifiche così ogni volta che pubblico un nuovo video perché come vedete ogni tanto pubblico la mattina ogni tanto pomeriggio ogni tanto la sera dopo le partite voi attivate la campagna delle notifiche così vi arriva la notifichina ogni volta che pubblico un contenuto allora partiamo 1 a 1 finisce 1 a 1 per l'Italia gol di Ciro Immobile per la Macedonia del nord un gol veramente clamoroso di Bardi mi sembra si chiami col centrocampista se non erro gioca in Spagna comunque sia un ottimo calciatore l'ho valutato diverse volte ho visto diversi highlights anche nei mesi passati devo dirvi che è un calciatore che mi piace molto oggi ha fatto un gol veramente clamoroso da punizione lì diciamo che magari Donnarumma poteva fare qualcosina in più poteva tuffarsi un po' prima ho visto che si è tuffato un po' dopo però ci sta perché alla fine da lì da quella posizione con la barriera tutto per il portiere capisco che è anche difficile vedere vedere la traiettoria iniziale del pallone e tutto quindi ci sta comunque sia a Bardi parliamoci chiaramente ha fatto un gol clamoroso poi è ovvio si poteva fare di più non è stato fatto poi il resto della partita per me l'Italia non ha giocato bene o meglio magari ha anche giocato bene però ha avuto un gioco noioso c'è dall'Italia è vero che comunque sia Spalletti Allena è in gruppo con i ragazzi da una settimana cioè i ragazzi hanno conosciuto Spalletti a livello di campo le tecniche, le strategie di Spalletti una settimana fa quindi ci sta e comunque sia ci mettano un po' di tempo per entrare bene negli schemi però comunque da un'Italia di Spalletti e tutto mi si è rispettato qualcosina in più anche perché io l'ho guardata qui con un mio amico devo dire che mi sono annoiato cioè i primi minuti ok bene poi una noia totale poi gol di Immobile dieci minuti a bomba e poi noia totale sembrava di vedere la prestazione della Juve contro l'Empoli sembrava vedere la prestazione della Juve contro l'Empoli con la differenza che poi l'Italia oggi ha pareggiato mentre la Juve aveva vinto io ovviamente non sto qui a sfogarmi a piangere su per la nazionale perché come sapete anche noi juventini non abbiamo un ottimo rapporto con la FCC e tutto però comunque sia è la nazionale è comunque sia una buona possibilità per farci il contenuto quindi vi porto questo video però non sto qui a disperarmi ovviamente io da tifoso perché comunque sia sì sostengo la nazionale perché la nazionale italiana ho esultato gli europei ho pianto quando siamo andati ai mondiali oggi ci sta che io mi metto qui registro questo post partita mi aspettavo di più però come vi ho detto capisco comunque sia i ragazzi perché si allenano con Spalletti a parte i vari di Lorenzo Meret Politano Raspadori si allenano con Spalletti da pochi giorni da 5-6 giorni quindi ci sta e ci mettono un po' a entrare dagli schemi questa non voglio dire che è una partita eccessiva perché comunque martedì abbiamo l'impegno contro l'Ucraina poi avremmo tutto il girone di ritorno diciamo il ritorno di queste partite contro l'Inghilterra Malta Ucraina e Macedonia del Nord quindi ce n'è ancora di tempo per qualificarsi è ovvio che aver portato a casa i tre punti oggi sarebbe stato meglio di portare a casa un punto però vabbè dai ragazzi ci sta sono cose che succedono l'importante è martedì vincere con l'Ucraina perché martedì per me non ci sono assolutamente scuse martedì devi vincere punto basta punto stop cioè martedì l'Italia deve vincere come vi ho detto il gioco mi ha un po' annoiato mi aspettavo qualcosina di più a livello di gioco soprattutto vedendo il Napoli di Spalletti l'anno scorso mi aspettavo qualcosina di più se devo proprio star lì ad analizzare vi devo dire che comunque sia ho visto un'Italia dei giocatori Mari Pulitano Zaccani che provavano ad apportare gli schemi che sono stati apportati l'anno scorso al Napoli ovvero le triangolazioni gli 1-2 in attacco nel primo tempo c'è stata un'azione di scambi Zaccani immobile con la palla che poi è finita a lunga però diciamo che le idee ci sono ci sono i presupposti per far bene si vede che è cambiato qualcosa si vede che è cambiato CT si vede che Spalletti ha portato delle idee e delle idee diverse un modo di giocare diverso rispetto a quello che aveva Mancini io sono ovviamente fiducioso io resto sicuro che l'Italia possa e si qualificherà a Euro 2024 poi la parola ovviamente al campo mi sarei aspettato di più a livello di gioco mi sarei aspettato una vittoria però prima partita di Spalletti ci sto poi se dovessimo fare una prestazione del genere pareggiare o perdere così anche contro l'Ucraina martedì allora qualcosa mi inizierebbe a puzzare allora lì direi che c'è qualcosa proprio di fondo che non va che non andava con Mancini e che non va con Spalletti però per fare critiche e pregiudizi è ancora ovviamente troppo presto io ovviamente spero di vincere martedì prestazione come detto non mi è piaciuta molto detto questo ragazzi vi do breve volevo dirvi un attimo la mia detto questo ragazzi io vi invito a seguirmi lasciate tutti quanti like arriviamo con il ci vi piace attivate la campionata di notifiche commentate scrivendo il migliore in campo per voi cosa ne pensate di questa partita tutto quello che volete scrivete qui sotto nei commenti io vi aspetto vi leggo tutti quanti noi ci vediamo domani mattina se ci sarà qualche news clamorosa comunque qualche news sulla Juventus o non solo se no ci vediamo lunedì con un nuovo video detto questo ragazzi vi vi è piaciuto un saluto su 59 bella raga